Ciao a tutti, buon pomeriggio, vediamo molto velocemente il grafico del standard PUR500, candele giapponesi e il time frame settimanale, ogni candela rappresenta quindi una settimana, abbiamo poi il MACD e il Momentum. È evidente che la penultima candela, quindi quella della settimana scorsa, abbia dato un impulso ribassista che nel breve periodo è andato a rompere questa trend line rialzista, la quale è stata retestata poi come resistenza dal basso in questa settimana. Il trend di fondo rimane comunque chiaramente rialzista, ma mi aspetto per le prossime settimane forse ancora un ulteriore pullback per andare a salire ancora un po', ma non mi aspetto nuovi massimi, vista la doppia divergenza ribassista tra i massimi fatti dall'indice e i massimi del MACD e i massimi del Momentum che sono invece ribassisti rispetto ai massimi dello standard PUR. Quale potrebbe essere il livello dell'approdo di questo storno? secondo me potrebbe essere in area 2500 punti, 2530 circa, dove abbiamo appunto questo livello di supporto statico, ma è anche il primo livello in pratica che andiamo a vedere che effettivamente potrebbe essere preso con i ritracciamenti di Fibonacci. Mi attendo quindi che il 23.6 possa essere rotto, vista la importanza di questa candela ribassista che da sola già ci fa presagire un possibile proseguo del ritracciamento e quindi il 38.2, visto comunque che il trend di rialzista è forte, mi sembra possa essere già l'approdo qui arrivare, per cui tra i 2500 e i 2530 punti mi attendo. la fine di questo ritraccio. Se passiamo molto brevemente sul grafico mensile vediamo, ci interessa solamente il prezzo, in questo caso vediamo come le ultime tre candele che stiano andate a formare almeno per ora, visto che siamo a metà mese, ma stiano formando un pattern ribassista, quindi una engulfing bilish, che ancora dovrà essere confermata dalla chiusura della candela mensile, ma appunto visto il settimanale, come detto poco fa, mi attendo prosecuzione dello storno, al di là di qualche breve ritraccio sul timeframe giornaliero. Un saluto a tutti e grazie. Grazie. Grazie.